Allora, con noi della Gazzetta Eonica una candidata ai comitati di quartiere della zona di centro d'Orevarata. Patrizia, cosa ti ha spinto a candidarti? Innanzitutto diciamo sempre l'amore per il paese, anche se è una frase ormai detta e ridetta da tanti candidati. Ma principalmente perché ho sentito il bisogno di scommettermi e quindi vedere fino a che punto riesco a propormi alla gente. Perché la gente mi conosce, parlo per quelli del mio quartiere, mi hanno vista crescere, formarmi, partecipare a quelle che potono essere attività ludiche anche della parrocchia, anche del quartiere stesso. E quindi un modo come un altro per vedere se riesco anche con il mio piccolo contributo di far cambiare in meglio anche le cose qui a Santa Teresa di Riva. Per la prima volta a Santa Teresa di Riva ci sono i comitati di quartiere, mai finora si erano fatti. Cosa ti aspetti di questa nuova iniziativa? È una bellissima proposta, una bellissima iniziativa, però nello stesso tempo dà anche la possibilità alla gente di Santa Teresa di Riva, quindi ai semplici cittadini, di confrontarsi direttamente con quelli con l'amministrazione comunale. Quindi chi verrà eletto consigliere di quartiere avrà la possibilità non soltanto di ascoltare le proposte che possono essere fatte per migliorare i disagi o le problematiche presenti in ogni quartiere. Ma soprattutto ci si farebbe portavoci di quelli che sono anche i problemi che si vivono nel quotidiano, come può essere una macchina in doppia fila, come può essere una mattonella rotta. Comunque parlo delle cose basilari, piccole, anche se per migliorare i quartieri di proposte e di opere da fare ce ne sarebbero tantissime. Perché le persone del tuo quartiere dovrebbero scegliere te come candidata? Io non vorrei essere presuntuosa nel dire che chi mi conosce sa chi sono. Sono una persona che nel mio piccolo si è sempre spesa per migliorare le cose banali anche del quartiere. Quando ho potuto ho cercato di dare una mano anche alla gente che mi ha chiesto un consiglio, un'opinione, anche un aiuto morale. Quindi chi mi conosce sa chi sono, sa come mi pongo con le persone, sa che lo faccio non per un interesse mio personale perché sinceramente sono qui per scommettermi. Poi se la gente mi vuole dare fiducia e vede in me una persona capace di portare avanti le iniziative di cui il comitato di quartiere si farà promotore, ben venga. Io sono qui. Se mi volete dare la fiducia sono qua. Quali sono le tue aspettative in caso in cui tu troveresti i voti giusti per poter andare al comitato dei quartieri? Le mie aspettative, come dicevo prima, vanno o non vanno come interessi personali ma rivolti comunque alla collettività. Quindi al quartiere stesso, nella fattispecie dove vivo io, al quartiere della Sagra Famiglia. Di problemi, come ho detto in un mio precedente intervento, in ogni quartiere si vivono problematiche e disagi quotidianamente. Le mie aspettative, come appunto la domanda, le aspettative sono tante. Ovviamente sono qua, mi scommetto, metto a disposizione la mia capacità di comprendere e di parlare con la gente. Quindi diciamo come aspettative vediamo quello che succede dopo il 30. Se verrò eletta, sono qua. In bocca al lupo a Patrizia Lezzi per la tua candidatura. Grazie, crepi il lupo e speriamo che la gente il 30 di giugno si ricordi di andare a votare e che non si astenga dal non farlo. Perché, come dicevo in precedenza, è un'iniziativa, una bellissima iniziativa, che se non sbaglio soltanto il comune di Santa Teresa di Riva, in tutta la riviera Ionica, si sta facendo appunto portatori di questa grande iniziativa. Quindi siamo qua. Se la gente ci vuole dare fiducia, bene. Intanto vi ringrazio e alla presto.